Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Ai parioli per il rinnovo dei binari tramviari, da domani sarà chiusa al transito veicolare la corsia tram appunto di Viale Rossini nel tratto tra Piazza Ungheria e Via Guido d'Arezzo. Per quel che riguarda il servizio tramviario, quello della linea 2 resta a subuso lungo tutto il percorso, navette anche per le linee 3 e 19 tra Porta Maggiore e Capolinea di Valle Giulia e Piazza Risorgimento. Le altre notizie nell'ambito della riqualificazione di Piazza D500 da domani verranno chiuse al transito via Barbieri e via Cernaia nel tratto tra via Vittorio Emanuele Orlando e via Pastrengo. Previsto un cambio di percorso per 14 linee di bus, i dettagli su romamobilita.it.